Si sente già martellare un po'. Poco. Ma adesso loro stanno verificando gli impianti, perché gli impianti non sono la norma di legge in questo posto. Io qua, per esempio, la prima cosa che farei è una pollizia, per esempio. Ma non diciamolo in giro. No, però restituire alla collettività una cosa così è una meraviglia.